Tornano le dirette streaming di TV Web Mestrino. Lunedì 14 aprile alle ore 21 saremo a Selvazzama. La lista del Movimento 5 Stelle si presenta ai cittadini e ci saranno grandi ospiti. Ricordiamo Giovanni Endrizzi, senatore a 5 Stelle, Jessica Rostellato, parlamentare a 5 Stelle, Alvise Maniero, sindaco di Mira a 5 Stelle, Giovanna Libero e Flavio Pinton, consiglieri comunali del 5 Stelle, David Borrelli, candidato alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle e naturalmente il candidato sindaco per Selvazzano del Movimento 5 Stelle, Ulderica Mennella. Non mancate al grande appuntamento in diretta streaming di TV Web Mestrino. Saremo a Selvazzano lunedì 14 aprile alle ore 21. Diretta streaming, una grande serata, un grande evento a 5 Stelle. Saremo a Selvazzano lunedì 14 aprile alle ore 21.